Il Consiglio Comunale di Villadogna ha recentemente approvato il bozzetto del nuovo stemma del Comune. Perché è stato necessario arrivare a questo passaggio in aula? Sì, esattamente. Il 29 dicembre il Consiglio Comunale di Villadogna ha approvato all'unanimità, quindi anche da parte del gruppo di minoranza, il bozzetto del nuovo stemma del Comune di Villadogna. E' stata una decisione da parte dell'amministrazione questa di portare all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo stemma perché di fatto ad oggi il Comune di Villadogna non ha uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica come previsto dalla legge. Lo stemma che attualmente viene utilizzato risale al 1996, il quale però tuttavia non ha terminato l'iter necessario appunto all'approvazione. Tra l'altro questo stemma che attualmente utilizziamo non rispetta i canoni e le regole araldiche previste appunto dalla normativa. Per cui come amministrazione abbiamo ritenuto importante procedere con l'approvazione di un nuovo stemma ovviamente che rispondesse a tutte le regole araldiche previste e che simboleggiasse anche il Comune di Villadogna. Infatti all'interno dello stemma sono presenti dei simboli che come amministrazione riteniamo essere i rappresentativi del Comune. In particolare nel primo quadrante sono presenti tre bisanti che rappresentano le tre principali zone del Paese, quindi Villa Ogna e la frazione Sant'Alberto. Nel secondo quadrante è invece presente la conchiglia e il bordone che sono i simboli araldici che rappresentano il pellegrino, nel caso di Villadogna specifico rappresentano il nostro Beato Alberto, il nostro concittadino più illustre. E nel terzo e ultimo quadrante è invece rappresentata la fontana di Ionia che tra l'altro è presente anche nello stemma attualmente in uso che nonostante non sia un monumento particolarmente antico, infatti risale solamente agli anni 30 del 900, è comunque un simbolo che rappresenta il borgo e la piazza di Ionia e più in generale il nostro paese. Hanno un significato anche i colori. Esattamente anche i colori hanno un significato come prevede appunto la raldica. In particolare il primo quadrante, i bisanti, sono su sfondo verde in rappresentanza della montagna e del territorio. Il secondo quadrante è su sfondo rosso per rappresentare la santità del Beato Alberto. Il terzo quadrante è su sfondo azzurro per rappresentare l'acqua, quindi il fiume serio e il torrente Ionia in particolare. Quali saranno adesso i prossimi passaggi per arrivare all'approvazione definitiva di questo nuovo stemma? Sì, noi questo bozzetto prima di portarlo in consiglio comunale lo abbiamo già sottoposto in maniera preliminare all'ufficio araldico di Roma il quale ha già dato l'assenso e la bontà delle rappresentazioni grafiche. I passaggi ora che il Comune dovrà intraprendere saranno quelli di trasmettere tutta la documentazione necessaria all'ufficio araldico di Roma presso la Presidenza del Consiglio e contemporaneamente anche la richiesta di concessione del decreto al Presidente della Repubblica. infatti il Presidente della Repubblica che dovrà firmare il decreto di concessione solamente in quel momento potremo ufficialmente utilizzarlo in tutte le occasioni e anche sul gonfalone che verrà realizzato appunto appositamente con il nuovo stemma.